Abbracciato dall'affetto dei figli, dei nipoti e degli amici più cari, ha festeggiato in compagnia e in allegria i suoi primi 70 anni Armandino De Rosa, presidente della Prologo di Villa Ricca e direttore di Campania Felix TV, serata all'insegna della rete, delle eccellenze del territorio e di gustosi manicaretti nell'accogliente location dell'Avenir, un locale di tendenza nato da qualche mese proprio a Villa Ricca, che sa offrire ai suoi ospiti un ambiente innovativo e delizie per il palato. Nonostante l'inclemenza climatica, tutti gli amici più cari e tanti artisti del territorio hanno partecipato alla serata, sapientemente organizzata da Anna Maria Porcelli, consorte di Armando e suo alter ego, che ha saputo pianificare un mix di interventi artistici a cui hanno preso parte una serie di artisti che, in questi 70 anni, hanno incrociato la propria vita professionale con quella di Armando, da sempre impegnato nella promozione del genius loci. Hanno ridiziato il festeggiamento di partecipanti, Antonio Diana anche nelle vesti di presentatore della serata, Alessia Moio, Iguarracini, Mimmo Angrisano ed anche Sergio Bruni, il Phil Rouge della serata, che ha ripercorso anche l'impegno professionale e sociale di promozione territoriale di Armando De Rosa. Ad animare il bel momento di aggregazione, anche Antonella Bellissimo e Tommaso Di Nardo, che a due voci hanno recitato una poesia del maestro Paromba, paroliere preferito di Bruni ed autore dell'indimenticabile Carmela. Sempre esponente del territorio, Simona Nuria Ferrante, colei che ha portato nella serata anche un pizzico di internazionalità, con una bella performance di Danza del Ventre, facendo luccicare gli occhi ai tanti signori presenti. La bravura, l'arte ed il generoso impegno di tutti, in particolare dei giovani del servizio civile, hanno reso unica una serata da lupi, facendo festeggiare ad Armando De Rosa, per tutti Armandino, un settantesimo compleanno pieno di affetto ed amicizia.